Buongiorno ragazzi, mi potete dire sono incoerente, mi potete dire la qualsiasi, però oggi l'unico mio messaggio è dire il Covid-19, indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute e a tutto quanto, io quella volta scherzando spontaneamente, ripeto per l'ennesima volta, ho detto il Covid e non c'è, ma adesso siamo messi male quindi in primis ci ho sempre creduto, abbiamo scherzato, abbiamo riso, anche altre persone hanno fatto di tutto e di più e nessuno li ha mai criticati, ho fatto il gioco io, ho detto quella frase io e tutti a tirarmi i sassi comunque ragazzi, un consiglio, mettiamoci la mascherina, usiamo le precauzioni giuste Grazie a tutti